Berlusconi ha già detto poi la linea di forza Italia, noi siamo a Berlusconi, la maggioranza è uguale a quella che abbiamo fatto in elezione, il Presidente del Parlamento Europeo, l'Amporto di Polizia, una coalizione formata da popolari e conservatori da liberare e sconfiggere la sinistra, questo è quello che abbiamo già fatto, quindi Berlusconi è che seguiamo la strada, noi siamo lavorando per questo, abbiamo il cantiere aperto e devo raggiungere l'obiettivo, certamente non possiamo assecondare la politica che provoca danni enormi alla industria dell'agricoltura che persegue il Commissario Timmermans e che le sue scelte non sono assolutamente condivisibili, non è questo il modo di combattere il cambiamento climatico e su questa fronte è quello che Macron e il leader dei liberali europei è stato molto fermo, ha detto parole molto dure da questo punto di vista, lo stesso ha fatto anche un ministro belga e la posizione del governo italiano, quindi si possono essersi punti di convergenza soprattutto per la lotta al cambiamento di una negozia, misura di impresa, misura di agricoltura e su una tutta misura di un peso del lavoro.